Tre giudizi negativi dei revisori dei conti sull'attività amministrativa del Comune di Modica. Riguardano in particolare l'acquisto di un'auto, la partecipazione del Comune all'Expo e l'erogazione di 20.000 euro ad alcune emittenti locali. La prima riguarda l'acquisto dell'auto di cui l'opposizione si è occupata due o tre settimane fa. Si tratta, spiega la Castello, di una Lancia Delta vecchia di quattro anni e mezzo per trasportare, così si disse formalmente, persone disabili. Per i revisori è stata compiuta un'irregolarità contabile con conseguente danno erariale, violazione di legge e responsabilità personale della posizione organizzativa che ha assunto il provvedimento. Scatta ora anche l'illecito disciplinare. La seconda, l'amministrazione, ha deliberato di dare ad alcune televisioni locali la somma di 20.000 euro per diffondere notizie e comunicati sull'attività comunale. I revisori ritengono che erogare tale somma costituisca un illecito. La terza lettera, infine, riguarda alcune spesucce compiute dal sindaco per la partecipazione all'Expo di Milano. Si tratta di ben 183.000 euro che non potevano essere impegnate. Un comune delicato come Modica, scrive la Castello, va governato nel rispetto delle leggi di contabilità, perché solo le leggi e nemmeno tutte possono costituire un baluardo contro la crisi. Leggi che un amministratore dovrebbe conoscere, o almeno ce lo si augura.